Chikri kikri 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 kikrii Ciao ciao a tutti, belli e brutti, paziente del mese numero 79 number 179 per gli amici dell'Australia siamo in un palazzo e all'ultimo piano c'è una giovane ragazza che fa il suo mestiere in casa La donna del piano di sotto stufa, va da lei e suona la porta Buongiorno, devo avvisarla che i condomini si sono lamentati Del continuo rumore e gemiti e via vai di uomini di suo appartamento La giovane ragazza le dà 50 euro Penso di comprare il mio silenzio con 50 euro? Io la denuncio La giovane ragazza le dà altri 50 euro E la donna Allora, non ci siamo capiti Io la denuncio Io adesso i soldi Non me ne faccio un bel niente E la giovane No, guardi E' il resto che doveva a suo marito No, guardi E' il resto che doveva a suo marito E' il resto che doveva a suo marito